Non avete bisogno di uscire dalla vostra stanza. State seduti al vostro tavolo e ascoltate. Non ascoltate neanche, semplicemente aspettate. Non aspettate neanche, state immobili e in solitudine. Il mondo si offrirà liberamente a voi per essere smascherato. Non ha scelta. Rotolerà in estasi ai vostri piedi. Franz Kafka Grazie a tutti.